La violenza sulle donne è un fenomeno che non diminuisce, le statistiche sono agghiaccianti. Nel 2012 124 donne sono state uccise in nome di un amore malato e assassino. 74.000 donne hanno subito violenza sessuale e in generale una donna su tre è stata vittima dell'aggressività di un uomo. A usare violenza è sempre più l'uomo normale, di giorno e chi vede non ti aiuta. Subire violenza è un atto che cambia completamente la vita. Non permettere che qualcuno stravoga la tua vita. Anche in questo campo esiste la prevenzione. Per difenderti efficacemente serve un'adeguata preparazione psicologica e tecnica che puoi acquisire frequentando un corso di formazione altamente professionale. La difesa è un evento dalla non facile gestione, per questo è necessario essere seguiti ed educati da personale qualificato. i nostri corsi di formazione si basano sul metodo MAP e ti assicurano un aumento della sicurezza interiore e uno sviluppo dell'autostrada. Non solo formazione tecnica lunga e questo perché durante la fase di difesa subentrano fattori come la paura e l'emozione che è necessario sistemiche di formazione. La prima mano, il calcio e scappola. Ok? Tutturiamo. Tutturiamo il calcio. La componente tecnica tuttavia è fondamentale e in Italia può essere impartita solo da un maestro qualificato riconosciuto dal Komi, il quale utilizza il metodo anti-aggressione donne, MAD, con una serie di tecniche provenienti dal metodo di autodifesa israeliano Krav Maga, in uso anche presso le forze dell'ordine. Quindi, che va che sposti là, a terra, 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 a terra. Le tecniche sono concepite per essere imparate subito, indipendentemente dall'età e dalle condizioni fisiche. Len crescereplano. Orendate la linea. No, no! Non ciаг ing hometownia. Teniamo la ferma. Fantali. C'è la bruata. Si piace la mia mano. La mia mano sulla tua testa. Crevi? Oh! Yeah! Con la necessaria sicurezza e preparazione, ogni donna può difendersi da sola, perché l'inviolabilità del proprio corpo è un diritto. Grazie a tutti!